Bella a tutti ragazzi e bentornati nel nostro canale Club Italy Channel Oggi vi portiamo un'ampia sintesi della partita di ritorno della serie AFI WPA contro gli Old Glories In descrizione vi lasceremo il link per la partita d'andata per chi non l'avesse vista E inoltre vi lasceremo il link del post partita con un paio di ragazzi intervistati che hanno giurato queste partite Se vi è piaciuto il video vi invito a lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Un saluto a tutti e buona visione Oddio No c'è buono il porco Ma calma Ma calma su Fa la battere a Inder Ma la gioca corta la metto in mezzo Raga nessuno al limite vicino così non aggancia nessuno di voi Solo gli alti in aria Solo altri Ferba, lei, va, Ferba Aspè non battere ancora Ok vai Centrati pure Mirko Ah, ti ho avuto io Ma calma E' calma Buona posizione Ok Apertura per Mirko Top E' calma E' calma Fai giro Fai giro ma l'apporto un po' colpa l'apporto ma l'apporto b nome perché era il periodo no era ora il primo posto rapporto posto sul centro l'opera la francella se non è fuori scoparco la cosa è stata un'ambulanza non è finito non è un'ambulanza per me Sì, quella merda mi ha fatto capire, no? Ah, non sapevo... Eh, l'ho fatto solo per liberarlo. Ho fatto bene, ho fatto bene. Non decentrarti, Franci. Ok. Ancora se vuoi? Sì, sì, sì. Peccato. Ok, Oscar, ok. Bello, Oscar. Ah, già. Pericolo, eccoci. Pericolo, eccoci. Pericolo, eccoci. Oh, raga, coperture per Miki, per Mirko e me. No, vai, Mino. Eh, basta Mirko, ce la fai qua, dammela. Ah, vabbè, però non si può qua, si abbassa. Eh, vieni, vieni. Eh, vieni. Da la Gianda, da la Gianda. Vai, 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 passami. Inserisci, ti sei andato. Mi ricorso la buona volta. Buona, lascio a spunto. Sponda, bastardo tipo il polacco. Spondami di nuovo. Sponda! Sponda sta merda! Non ci ho creduto, ma... Si è un marco di merda! Grazie, mi sembra. Con la merda, te l'hai messo davanti, metti davanti! Tranquillo. Buoni, buoni, se si, io non la riaprano. Ti vai qui. Buono. La tengo, eh. Si, si, comincia di, comincia di. Non gliela da... Eh, scusate, ho fatto il po' di... no raga lì non dovete perdere palma eh lo so, ferma però quasi finora io stesso niente, stesso niente questo è per farvi capire, non bisogna per il tempo è già in capo se mi meno si è salito troppo è un'altra cosa, non gli dire, non vado non lo commizionare anche la dimessa lunga su questo colconino raga, al limite dell'altro no no ma si tre ore per spazzare vai tranquilli anche rimessa, anche rimessa porco dio prima c'è spazziamo subito qui qua calma guardami oh ma cazzo è rimasionalizzato va bene, va bene, buona buona, buona perché c'è il passaggio d'esterno? no, non mi ricordo calma, calma c'è la sponda, guarda, guarda ma che dove va? qui, porco dio, sto davanti alla porta esatto dai, 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 dai però zitti giro ma tu lo sai che il secondo palo è tuo? si, ma ti ripeto vabbè ti spiego dopo dai capito, ti hai ingannato i movimenti e dai però, mamma mia quanto si lento vaffanculo vaffanculo ti giuro raga, mi hanno elevato un assist di giro assist mio, eh mi hanno elevato un gol raga i miei, mamma mia ma con questo giro l'ha tirato solo per incazzatura era rigore quello vai oscar tanto io lento sicurati se la parla mettetela mettetela lì no, ok la metto io, non è meglio guido, va bene attalda te oscar va bene va bene va bene mo 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 qui fa niente dai ooh è finita eh tu vado quindi, magari ne all'inamero passato eh di pure di chi non voleva l'assi chwara Gesù no, Mirko parla te trovo non ho mai fatto scendete un po' hai dato il quale volumen per favore per favore per coglione quanti stagione giù 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 il veneto inviolate a fare il volo ognuno dei nuovi ppm Grazie.